Fratelli e ragazzi amici di Facebook e Instagram, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon giovedì ragazzi, buon giovedì. Allora, video dall'ufficio perché oggi giornata incasinatissima, però insomma sono venute fuori altre notizie e quindi le andiamo a commentare. Intanto vi dico che mancano due giorni, oggi è il 9, quindi sabato per chi è di Milano o per chi è in provincia di Milano, se vuole, può partecipare alla festa del gruppo All Fans. Quindi ci sarà tutta una giornata, solita festa di fine anno, un po' come la festa grande della Curva, no, lo si fa in piccolo, poi ognuno organizza per i suoi gruppi la festa. Quindi sabato 11 giugno, dalle 10.10, 10.30 in poi, fino alle 18.19, Largo Brugnatelli 5 Buccinasco, il locale Mr. Fantasy per chi vuole. Poi altra cosa, se non vi dimentico, visto che Candela mi ha chiamato per tempo, Candela domani sera, quindi venerdì sera, domani sera, segnatevelo già, dalle 23.30 in poi, in diretta, il DEC, sul Top Calcio 24, con gli amici di Calcissimo. Se no poi mi scordo. Detto questo, ragazzi, allora, vedete che poi facevo bene a dire, ma state calmi. Cioè, tutto quel casino su bastoni, tutto quel macello su bastoni per le parole della gente, no, perché la gente ha detto così, ah, su un ingout, casino, bordello, minchia, ma state calmi. Perché dopo due o tre giorni aveva già parlato in modo diverso, ieri addirittura ha detto, no, si rimane qui. Quindi, non è che, quello che dico io, per quello mi scaglio contro queste cose e contro chi poi alimenta queste cose ancora di più. Non è che ogni minima cazzo di notizia o di cosa, eh, bisogna fare il macello. Perché quello che dico io, io di solito a fine mercato valuto il mercato. Decido se dire, no, hai fatto un mercato di merda, no, guarda, mi può garbare. L'anno scorso avevo detto la mia sul centrocampo. E il problema è stato fondamentalmente lì, per le riserve, dico io. Quindi, cioè, adesso ad esempio, no? Bastoni sembra tutto a posto. Adesso però viene fuori la storia di Skriniar. Perché Paris Saint Germain si è fatto sotto per Skriniar. E adesso qui ci saranno altre dei volte. Domani sarà ancora Lautaro. Cioè, se diamo retta a ogni notizia, se andiamo dietro a ogni cosa che esce, con un calcio mercato che deve ancora iniziare, inizia tra 21 giorni, 20 giorni, a fine mese, a primo di luglio. Cioè, a posto stiamo. Quindi, per quello, ah, no, bisogna andare sotto la sede. Per cosa? Per cosa? Che poi, dopo una settimana, questo si dice che rimane. Che poi anche lì, prendiamolo con le pinze, perché anche l'anno scorso, Pastorello ci diceva, The King rimane a Milano. Quindi, siccome non mi fido neanche più delle parole degli agenti, delle parole dei giocatori, io deciderò se incazzarmi o se a fine mercato. Però, quello che ti posso dire, quello che vi posso dire, che al momento, quello che vedo e quello che sento, mi piace. Io non ho mai visto un Inter, negli ultimi anni, così attiva, da subito, da subito. Mi viene da dire da Gosens. Subito hai sostituito con un ottimo giocatore Persic. Perché sapevi che forse Ivan se ne sarebbe andato. O perché non era una tua priorità. Quindi, a me sta piacendo di brutto questo tipo di calciomercato. Eh, ma l'hai fatto a zero, ma che cazzo ce ne frega a noi? Non è che bisogna per forza spendere, espandere. Chiaro, campioni servono, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Però, la dimostrazione, sono tante situazioni che si vedono in vari campionati, durante gli anni, no? Cioè, mi viene in mente che adesso tanta gente sta dicendo Bellanova, chi cazzo è? Sì, ma anche Darmian. Eppure Darmian è un valore aggiunto a questa Inter. Bellanova potrà esserlo. A me quelli che spancurano i giocatori, a prescindere, solo perché è un nome non conoscitissimo, perché dici, ah no, allora, adesso il Chelsea, perché poi anche le notizie, vedete, ieri sembrava che il Chelsea volesse come contropartite uno dei top. Adesso sembrerebbe che forse condense il Dumfries, però anche lì inizia a sentire, eh no, Dumfries no, eh no, ragazzi, qualcosa bisogna mollare. Se poi vanno in porto queste robe qua, col Monza, con Pinamonti, che sembra indirizzato verso Monza, con Pirola e l'altro ragazzo che c'è il riscatto obbligatorio, oggi già quattro cucuzze, mi sembra che le abbiamo prese, le prendi. Poi c'è il discorso Stefano Sensi, magari c'è un'altra strada per arrivare a quei soldi lì, però da qualche parte c'è, oppure metti De Vrij, visto che comunque sei forte su Bremer, tieni i bastoni, la difesa rimane quella e sarebbe top. Inserisci De Vrij, non lo so, adesso vediamo, però da qualche parte bisogna mollare, se riescono a mollare così, va benissimo, però a me che facciano il calciomercato a zero, che non spendono, non mi chiamo un cazzo, che so benissimo qual è la situazione, ma è proprio per questo che Suning da subito, da subito, da quasi subito, diciamo che il primo anno è stato un anno di transizione perché Tohir aveva scelto l'allenatore e tutto, ma dal secondo anno comunque ti porta Sabatini, Sabatini non è il primo pirla, dopo ti porta Marotta, quindi perché io sento dire, se facciamo questo calciomercato ringraziamo Marotta, sì ma Marotta non lo paghiamo noi, non lo paga Diego, non lo paga nessuno, lo paga Suning da anni, gli rinnova il contratto, quindi per quello dico, un piccolo grazie va comunque a loro, che stanno nella merda, però si sono affidati a persone giuste, che stanno facendo quello che possono, e che comunque ti stanno facendo rimanere competitivi, anzi, quest'anno ancora di più aveva detto Marotta, mi sembra dei nomi che circolano di capire che, se questi incastri vanno come si deve, con tutti quei sorrisini, sorrisoni, di Beppone e Marotta, insomma viene fuori sì, bella competitiva la squadra, per quello dico, tutte ste rivolte, sti zanga o sti coi, ogni minima cosa per attaccare, per rompere i coglioni, ma perché a che pro, ripeto, fate il gioco dei giornalisti, giornalisti, che ogni giorno, vedi, ieri, ah no, cazzo, adesso Chelsea vuole quello, 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 poi viene fuori, no, forse, forse dando Denzel, però poi viene fuori, viene fuori il Paris Saint Germain, che vuole Scrinia, e che cazzo, sempre da noi devono venire, rompere i coglioni, sembra che degli altri giocatori, altre squadre, non viene fra un cazzo nessuno, e quindi il malumore, no, perché adesso Scrinio, perché sarà, ed è così, ed è così il nove, e dovrà essere così, fino a fine luglio, finché non finisce il calciomercato, quello dico io, quindi, perché, se dovesse essere così la Baradam, è per tanta gente, che fa gli sfoghi, contro sfoghi, contro cazzi, o gente che mi scrive, o scrive, ah andate di sotto a protestare, dovrebbe essere ogni giorno così, perché pendono, da tutte queste cazzo di notizie, 10-15 notizie, una che sfancula l'altra, poi a volte, quindi quello dico io, prendete tutto con le pinze, cercate di ragionare con la vostra testa, però da lì, a sfanculare, a sfanculare, qualsiasi giocatore, qualsiasi nome viene fatto, non va mai bene comunque, quindi, ripeto, io sono fiducioso, mi fa piacere sta cosa, che ha detto il procuratore di Bastoni, però, finché non finisce il calciomercato, non voglio credere più, a nessuno, alle parole di nessuno, perché l'anno scorso, sono rimasto scottato, a 44 anni, e insomma, mi ero affezionato, e prenderla nel culo così, non mi è piaciuto, per quello dico, Romelu, nel momento in cui torna, non sarà più, il mio Lucacone, per quanto mi riguarda, però ben venga, è un giocatore che mi deve portare, l'Inter, più in alto possibile, Di Bala, Di Bala, dicono che è fatta, Di Bala, dicono che è fatta, il procuratore, dice che, vedi, ieri, è venuto fuori, oggi, che all'inizio, c'è stata un po' di rottura, di coglioni, perché, quello lì, è arrivato con delle pretese, un po' più alte, la dirigenza dell'Inter, si è incazzata, quindi, anche lì, a dire scrivere è fatta, no, è fatta, allora, ci siamo, io capisco che poi c'è chi ce l'ha più lungo, l'ho detto prima io, queste minchiate qua che assisto da anni, va bene, ci sta, però poi ci può stare anche l'imprevisto, quindi io, prima di dire, ok, è fatta, ci siamo, così, finché non vedo le firme, il mio saluto al giocatore, in questo caso Di Bala, ancora non glielo do, perché ho visto anche Padretteschi, che si è lanciato, Di Bala è fatta, boh, io finché non vedo le firme, voglio, voglio rimanere così tranquillo, ripeto, qui si parla di tanti giocatori, ma ancora, non si può quagliare, perché poi bisogna arrivare, a luglio inizia il calciomercato, ma l'Inter, mai come quest'anno, ha buttato delle basi su ottimi giocatori, con diversi incastri, se non va lì, se non va bene di qua, si può andare di qua, cioè, vedo veramente, un ottimo lavoro, un ottimo lavoro, e questo ottimo lavoro, è di un'ottima dirigenza, un'ottima dirigenza, che sta lavorando molto bene, da diversi anni, quindi questo era il video, ragazzi, vediamo gli sviluppi, adesso ci sarà il problema Scrinio, Scrinio non si può sacrificare, Scrinio, per me è il futuro capitano, quindi, vedremo, però da qui adesso, a fare le crociate, perché forse, il Paris Saint Germain, qua, secondo me, può, che poi, di offerte vere e tangibili, non sono ancora arrivati, quanto pare, quindi, come vedete, siamo, l'unica cosa, l'unica cosa, che mi può, un attimino, però lui ha detto che vuole l'Inter, ma se Conte si impunta, che vuole Lukaku, al Tottenham, ecco, forse, solo quello potrebbe fare, cambiare un po', l'idee, e ci starebbe, perché, ripeto, non mi aspetto, che Lukaku venga qui, e faccia i numeri, di due anni fa, perché, per un anno, praticamente, non ha giocato, perché, perché, ha bisogno di un certo tipo, di preparazione, perché ha bisogno di un certo tipo, di allenatore, che gli fa da chioccia, l'abbiamo visto con Conte, come è rinato, è diventato addirittura, più forte, quindi, è da valutare, cioè, sarei contento, ma, comunque, è da valutare, e non dimentico, come se n'è andato, sicuramente, basta ragazzi, questo è il video, ci aggiorniamo, forse nel pomeriggio, ma dubito, sicuramente domani, mi sa, il cappello corto, finalmente, che fa un cazzo di caldo, condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza Inter, sabato, festival fans, domani sera, vi ricordo, su Top Calcio 24, dalle 23.30 in poi, ciao.